Siesto, lìrim castrati, vajok, es, es, it, a Meierboll, ieres. No, non ho ancora mangiato nessun piatto tipico ungherese, però presto ci andrò, anche perché non mi è capitata la situazione giusta per andarci, insomma. Ad essere onesto, non so cosa sia la pallinca, perché io non bevo e quindi non me ne intendo di alcol. Il mio luogo preferito a Budapest, in realtà non ne ho uno di preciso, perché non ho potuto visitarla benissima, però mi piace un po' tutto in generale, quindi non ho per un preciso momento il luogo dove mi piacerebbe di più. Le ragazze ungherese, ho visto, sono belle, belle, belle ragazze, però al momento non è la mia cosa primaria, perché appunto adesso arriva il calcio, e l'Uipest e fare bene con il club, con l'Uipest. Il calcio ungherese è un calcio molto appassionante, è un calcio moderno, quindi non è un calcio difensivo, è un calcio molto buono, secondo me, e che si può crescere in tanti sottospetti e punti di vista, quindi è un calcio buono in generale. Come si può crescere in tanti sottospetti, La mia parola in ungherese era quella di siastok, perché ogni volta che dovevo salutare, uscire, comunque sempre mi serviva a dire ciao, e sempre quindi ho imparato la prima cosa, è stato siastok. Come si può crescere in tanti sottospetti, e, e, te, 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 te Saluto i tifosi, ora come ora non posso dirvi che vi aspetto allo stadio perché la situazione del Covid non è la situazione migliore, quindi vi chiedo soltanto tanto supporto da parte vostra come avete sempre dimostrato fino ad ora. Quindi vi mando un grande abbraccio, statemi tutti bene e spero che tutto possa tornare il prima possibile alla situazione normale e con voi fare grandi risultati.